Qualche interlocuzione con Conte, il Governo, con la Commissione? Sì, noi stiamo interlocuendo quotidianamente, anche ieri sera, anche stamattina, domani starò a Roma e avrò incontri importanti con esponenti di Governo perché Napoli è protagonista di questo processo di permettere al centro i sindaci. Io sono assolutamente fiducioso che tutti gli impegni del Presidente del Consiglio saranno realizzati, dalle risorse economiche alle centralità dei sindaci, quindi ho molta fiducia in questo perché l'incontro dell'altra settimana con Conte è stato un ascolto.